pace pace del signore buona giornata a tutti grazie a dio per questa domenica che abbiamo dinanzi oggi è un giorno particolare il giorno del signore per molti di noi è un giorno anche di riposo dalle attività secolari un giorno in cui possiamo magari mettere da parte le preoccupazioni della vita per deporle magari ai piedi del signore per dare più spazio alla ricerca del signore oggi grazie a dio nelle nostre comunità mattina o sera si celebreranno i culti del signore e vogliamo veramente con tutto il cuore dire sin dalle prime ore di questa mattina signore oggi parla al mio cuore e anche vogliamo dire signore oggi serviti di me durante il culto magari per elevare una preghiera per portare una testimonianza che sia di benedizione per coloro che ascolteranno magari per esercitare un carisma dello spirito santo signore benedicimi e fa che possa essere di benedizione ora torniamo all'oggetto dei nostri incontri mattutini vale a dire la meditazione della parola di dio stamattina leggeremo un bel po diversi capitolo 2 degli atti siamo leggeremo i versi da 5 fino a 36 dove è riportata la prima predicazione neotestamentaria sarà pietro che si alzerà in piedi insieme agli undici che alzerà la voce e comincerà a parlare a quelli che erano lì presenti innanzitutto perché c'erano tante persone perché era la festa della pentecoste e i giudei che erano dispersi e che quindi si trovavano in altre nazioni avevano imparato la lingua di quelle nazioni in queste circostanze particolari la pasqua la pentecosta eccetera si ritrovavano a gerusalemme per celebrare il nome del signore e io credo che anche noi stamattina lasceremo le nostre case per andare in chiesa nel locale di culto e magari ci dovremo anche spostare di paese ma vogliamo andare con questo desiderio con questo scopo quello di celebrare il signore e quando abbiamo questo desiderio nel nostro cuore avviene sempre qualcosa di straordinario il signore parla parla al nostro cuore mediante la sua parola e sapete la parola di dio qualcosa di potente di qualcosa di efficace lo scoprì un nostro connazionale un centuriano romano quando aveva il suo servo malato e disse al signore che voleva andare a casa sua per guarire il servo signore non c'è bisogno che tu vieni a me basta che tu parli perché so che la tua parola è capace di poter operare in modo glorioso e miracoloso ecco stamattina possa il signore darci questa fede fede per poter ricevere accettare e vedere operare la parola di dio in noi paolo disse ai tessalonicesi che essi avevano ricevuto la parola per quello che essa è parola di dio e noi dobbiamo avere questa stessa attitudine perché allora la parola produce degli effetti nella nostra vita stamattina magari il signore vuole proprio chiamare te a servirlo in un modo nuovo in un modo più impegnato e lo farà mediante la sua parola come avvenne nella chiesa di antiochia quando lo spirito santo disse mettetemi da parte barnabe saulo per un un incarico per un mandato che per un lavoro che ho preparato per loro magari il signore stamattina vorrà mediante la sua parola portare guarigione nel tuo cuore nella tua anima forse hai delle ferite che ti stanno lacerando e dio vuole guarire queste tue ferite o forse vuole proprio intervenire sul tuo corpo e liberati da qualche malattia che ti sta tormentando fratelli sorelle crediamo nella potenza della parola di dio crediamo nella autorevolezza della parola di dio e permettiamo al signore gesù che è presente in mezzo a noi quando ci riuniamo per celebrarlo di operare miracolosamente io spero che stamattina nel partire dalle nostre case ci richiamo in chiesa non per assistere ma per offrire al culto non per tornare nelle nostre case come siamo arrivati ma per poter tornare toccati da parte del signore pietro si alza quindi in quel giorno perché quando lo spirito santo prende possesso della vita non c'è più spazio per la pregrizia non c'è più spazio per il cosiddetto ministerio della sedia quello che caratterizzava il profeta il sommo sacerdote che lo scusa eli lo ricorderete questo uomo di dio che era ai tempi di samuele e che si trovava sempre su una sedia era sempre lì fermo immobile no pietro si alza insieme agli undici la chiesa quando è ripiena di spirito santo si muove agisce e agisce non secondo i mezzi e le idee i progetti umani ma agisce secondo l'impulso che viene dallo spirito di dio credo che il mondo di oggi abbia bisogno di una chiesa che si alza e che annuncia l'evangelo con franchezza come pietro fece quel giorno è vero noi siamo timidi per natura possiamo essere anche poco capaci ma non importa quello che importa è che lo spirito di dio abbia libertà di guidare la nostra vita pietro non era un granché da un punto di vista umano era un semplice pescatore anche timoroso e timido lo vediamo qualche giorno prima rinnegare il signore davanti ad una serva che chiedeva se lui era uno dei dodici ora non ha più paura ora è franco ora è determinato è convinto è deciso è l'opera della grazia è l'opera dello spirito santo o se noi ci lasciassimo permettetemi il termine travolgere dall'opera della grazia dello spirito di dio ben altro sarebbe il nostro modo di agire e di operare ben altro sarebbe il nostro linguaggio ben altro sarebbe la nostra audacia spirituale o possa il signore risvegliare i cuori di tutti quanti noi possa lo spirito di dio soffiare affinché possiamo essere una chiesa dei credenti che si alzano e che annunziano l'evangelo senza paura con l'unzione dello spirito di dio con parole sagge ma senza avere nessuna paura fino a poco tempo prima le persone che erano lì presenti avevano preso in giro quelli che parlavano in lingue perché pensavano che fossero pieni di min dolce anche se altri erano incuriositi da quello che stava avvenendo ora però ascoltano ascoltano quello che pietro dice e ciò che pietro dice non è altro che la storia di gesù cristo la sua morte la sua resurrezione il motivo della sua morte e la potenza della sua resurrezione cari nella grazia spesso ci rimandiamo di cosa dobbiamo parlare o quale nuovo messaggio dovremmo annunziare a questo mondo c'è un solo messaggio che è capace di trasformare la vita delle persone c'è un solo messaggio che è stato dato alla chiesa di gesù cristo e questo è quel questo messaggio è quello della morte della resurrezione di gesù cristo per la morte per la salvezza dei peccatori e per la resurrezione dei morti che presto deve avvenire coraggio fratelli sorelle non abbiamo bisogno di un nuovo messaggio abbiamo bisogno solo di una nuova unzione per annunziare l'antico messaggio dell'evangelo e portare così luce in un mondo di tenebre ed essere usati da dio per la salvezza dei peccatori che dio ci benedica in questo nuovo giorno ci accompagni con la sua grazia e ci guidi in ogni cosa che dovremo fare pace del signore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti